La città questa mattina si è stretta attorno alle vittime, ferite, loro famiglie, alla camioneria di porto, ai piloti, ai remorciatori. Lo ha fatto per dire una parola di cordoglio, di solidarietà, di vicinanza, di affetto, ma anche per dire quanto è importante reagire, quanto è importante ripartire, tornare a far funzionare il porto a fronte di ricchezze, di vita, di occupazione, di economia, di crescita. È un momento durissimo, forse dai tempi della London Valor, 23 anni fa non si era vissuta una tragedia così, anche se il portoglio ha avuto altri episodi, hanno coinvolto i lavoratori molto drammati. Sì, certo questo ha colpito per il numero di vittime, per il senso di distruzione e anche di impotenza verso un collo così violento, così improvviso. Un momento molto duro, ma sono convinto di istituzione al mondo del lavoro, sapendo stare vicine, unite, rilanciando una città che da qui è sempre stato fonte di occupazione, di crescita economica e di sviluppo.